Biglietto prego. I due controllori fanno il loro lavoro, consapevoli di esercitare una professione sempre più ad alto rischio. Sì perché si moltiplicano le aggressioni sugli autobus. L'ultima sul Pullman SVT diretto in Viale Verona. Un romeno e un marocchino alla richiesta di mostrare i biglietti rispondono con insulti, spinte e feriscono i due controllori. Poi se la danno a gambe ma vengono inseguiti e intercettati da altri controllori intervenuti in soccorso dei colleghi e dalla polizia chiamata da alcuni testimoni. I due stranieri sono stati denunciati.